In questa edizione di Complitaly News Europa, venite a fare le vacanze da noi UK, un solo decesso per Covid nelle ultime 24 ore Spostamenti dall'estero verso il Regno Unito Trasferirsi nel Regno Unito dopo la Brexit Europa, venite a fare le vacanze da noi L'Europa sta invitando i britannici vaccinati a trascorrere le vacanze estive nel continente Nonostante in Gran Bretagna i casi continuino a diminuire Al termine di questa settimana, il governo annuncerà l'elenco dei paesi che verranno inseriti nella lista degli stati con lo status verde La revisione dello status avverrà ogni tre settimane, in modo che le persone possano avere la possibilità di organizzare le proprie vacanze Paesi come Spagna, Grecia, Francia e Italia potrebbero ricevere il via libera a fine giugno UK, un solo decesso per Covid nelle ultime 24 ore Quella di ieri è stata la prima volta, dalla scorsa estate, in cui è stato registrato solo un caso di decesso per Covid Il programma vaccinale del Regno Unito sta funzionando in maniera evidente, tanto che i decessi sono calati drasticamente Il Regno Unito ha registrato 1.649 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore Dato molto incoraggianate, a pochi giorni dal nuovo step di riapertura è previsto per il 17 maggio Spostamenti dall'estero verso il Regno Unito Per chi intende viaggiare verso il Regno Unito, è utile tenere a mente l'obbligo del test prepartenza in inglese e del doppio test in Gran Bretagna, prenotabile sul sito governativo, al costo di 210 sterline a persona Queste misure si aggiungono a quelle già in vigore, che prevedono l'obbligo di esibire un risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti all'arrivo La compilazione del Passenger Locator Form e l'autoisolamento domiciliare di 10 giorni Trasferirsi nel Regno Unito dopo la Brexit Il Regno Unito ha ora implementato un sistema di immigrazione a punti, che tratta allo stesso modo i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini provenienti da altri paesi Con il nuovo sistema di immigrazione, chiunque venga nel Regno Unito per lavoro, deve soddisfare una serie specifica di requisiti, per i quali otterrà un punteggio, ed i visti di lavoro sono assegnati solo a coloro che ottengono un punteggio sufficiente Il sistema prevede una serie di percorsi di idoneità, detti Immigration Routes, che devono essere valutati per l'assunzione di personale non residente nel Regno Unito Potete trovare tutti i requisiti necessari per trasferirsi nel Regno Unito, seguendo le nuove regole in vigore, all'interno della sezione Come fare per, dell'app Complitaly, disponibile su App Store e Play Store Da oggi c'è una soluzione facile e completa In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora Disponibile per smartphone, tablet e pc, mille soluzioni, un'unica piattaforma, Complitaly